A quattro mesi dall'alluvione arriva una buona notizia per i cittadini di casa Micciola. Con l'attivazione del presidio territoriale della sala di controllo comunale da oggi sarà possibile evitare l'evacuazione degli abitanti alle zone a rischio A4 e D in caso di allerta meteo. Nei mesi scorsi le procedure di sicurezza adottate a seguito e la calamità naturale richiedevano che almeno 400 casa micciolesi lasciassero le loro abitazioni quando la protezione civile regionale emetteva avvisi di allerta meteorologica anche di livello giallo o arancione. Questo numero si era ridotto qualche settimana fa in seguito alla declassificazione del rischio per la zona di piazza Bagni che ha permesso il rientro definitivo a casa di 60 abitanti nel comune isolano. Ora con la messa a regime del sistema di monitoraggio del territorio 24 ore su 24 solo nel caso del superamento e la soia di pericolo accertato con le apparecchiature tecnologiche installate o a seguito di specifici sovrallughi sul territorio si provvederà all'allontanamento dei cittadini alle zone a rischio. Nel caso di allerta meteo restano comunque in vigore le misure di autoprotezione già conosciute per le zone B e C e cioè evitare gli spostamenti e l'utilizzo di scantinati e piani bassi durante la pioggia nonché la rimozione delle auto in sosta su biamonte della misericordia.